Adesso invece vi porto nella seconda sede. Allora, basterà uscire dalla sede in via Fabrizio Plinio, a destra. Andiamo verso la rotonda dove prenderemo la terza uscita. Terza uscita, 150 metri circa a sinistra. Mettiamo la freccia e troviamo la seconda sede col sogno. Ed eccoci qui nella sede in via Giuseppe Verdi. Qui troviamo tantissime auto usate, partendo da piccole utilitarie come la 500 o la Smart 4 4, fino ad arrivare ad auto come l'Audi A4 Allroad o l'Audi A6. Entriamo poi nel salone e troviamo tutto il reparto moto. Al piano terra troviamo tutto il mondo Yamaha. Mentre salendo le scale troviamo Husqvarna. Non solo con le moto ma anche col reparto e bike. Non manca ovviamente il reparto di moto usate. Mentre nell'altra sede troviamo l'officina auto, in questa troviamo l'officina moto. E per le sedi di diverso è tutto, ci vediamo alla prossima.